ciao amici diversami ancora oggi sono in un posto molto bello sono mozze cane e sono da placido che è un allevatore etico e che alleva degli angus ho scoperto però una cosa nel viaggio in macchina mentre venivo qua con placido che un toro riesce a tenere a bada 25 femmine questa cosa mi ha incuriosito particolarmente beh perché sono qua sono qua perché parte un'ammirazione per placido che fa dell'allevamento insomma ha fatto la sua vita e alleva in un modo particolare che ora ci racconterà e alla fine di questo percorso della conoscenza dei suoi angus gli assaggeremo e ci abbineremo anche due vini che io ho portato ma non vi svelo ancora cosa sono due vini molto particolari adesso è arrivato il momento di presentarvi placido ciao a tutti ciao ragazzi grazie dell'ospitalità grazie di essere venuto a trovarmi vivi in un posto meraviglioso io sono arrivata con della musica classica viviamo in campagna quindi dopo la musica ce l'ho aggiunta io per farglielo ascoltare i miei animali infatti perché era molto alta e si sente ovunque quindi loro ascoltano tutto il giorno musica classica diciamo quando sono vicini a casa o alzo il volume oppure la sentono ecco che cosa è l'angus sono loro ve li presento questi sono gli angus sono bovini bovini da carne per la loro hanno la loro caratteristica senza corni il manto nero l'unica variante possono avere il manto rosso e sono chiamati red angus e la loro particolarità che si prestano molto bene allo pascolo mangiano l'erba e convertono molto bene in carne poi si sente il gusto dell'erba nella carne e la loro caratteristica in più e la loro marezzatura infiltrazione di grasso dentro la carne sono resistenti sono tranquilli tranquilli ovviamente dipende da come sono allevati da come sono tenuti hanno tutti il loro carattere comunque abbiamo la monta naturale e questa è la loro vita che io ho cercato di renderla il più felice possibile perché loro stanno al pascolo liberi felici giusto quando hanno fame tornano seguono l'ombra esatto loro vanno in cerca dell'ombra mangiano l'erba che vogliono vanno in cerca dell'acqua che noi abbiamo messo gli abbeveratoi quello che ho cercato di fare io è cercare di fare una carne il meno stressata possibile che l'animale non sia stressato questa cosa mi incuriosisce perché anche nel mondo del vino mettono ad affinare il vino nelle botti spesso si usa la musica classica quindi c'è un qualcosa che ci unisce esatto esatto quindi ho detto c'è chi la fa ascoltare alle vigne e c'è chi la fa ascoltare ai bovini nel mentre che io e te parlavamo è successo qualcosa che per me è la prima volta sono curiosi si sono tutte incuriosi no no ma vieni vieni guarda vai piano adesso ti faccio avvicinare sono tutte tranquilla tranquilla che dopo loro vedi lei si avvicina pian piano perché sono curiosi i ginocchiati allora o mangia l'erba o ti dà un bacio quindi scegli te si vede che sei ben profumata perché senti come fa col naso gli angus ma i bovini in generale sulla loro caratteristica e la curiosità lui è il toro grigo stai tranquillo è grigo è molto gringo oggi è una valutazione del benessere dell'animale quanto l'uomo si riesce a vaccina avvicinare all'animale direi che non sono stressate esatto quindi vuol dire che sono molto tranquille sono molto a loro agio ciao è nato un amore questo ecco in un'immagine quello che vuol dire allevamento etico com'è il loro processo di vita nel senso anche in questo c'è un rispetto particolare allora è molto delicato anch'io mi affeziono soprattutto perché sono i miei animali c'è una cosa da dire non è vero che gli animali si accorgono che vanno quando vanno al macello gli animali hanno solo paura di un posto sconosciuto quindi io cerco di rendere sempre il loro ambiente più più confortevole possibile poi il passaggio è sempre delicato comunque l'importante è un po di compassione verso degli animali e gratitudine la loro vita deve essere il più lungo possibile il più felice possibile e poi la carne deve essere gustata in compagnia non deve essere sprecata assolutamente e quindi bisogna divertirsi e capire da dove viene perfetto la ti ringrazio ripartiamo se ci lasciano ripartiamo ce la faremo se non salgono anche loro eccolo è nel cavolo ci troviamo come è andata la visita agli angus ti sono piaciuta? è molto emozionata però quelli non vanno bene questi qua vanno bene questa è il proseguire e la degustazione di tutta la carne che si può fare allevata da noi procediamo secondo i piani grigliamo e ci abbiniamo il vino quando ci sei te e c'è lei bisogna fare così fai perfetto vi faccio vedere una cosa guardate una cosa bella bella queste vedete queste macchioline queste macchioline di grasso e la cosiddetta prezzemolatura esatto e sta a significare ragazzi che questa è una carne di qualità qualità quindi tanto sapore abbiamo visto che c'è tanta etica tanto amore e secondo me c'è tanta qualità e tanto sapore e allora possiamo amminarci quindi divertami ancora è certo adesso adesso deve per uscire deve andiamo no bene tu hai portato la carne abbiamo già assaggiato tutto io ti ho portato due vini è importantissimo fondamentale questo qua è un Malbec quello che ti ho versato si chiama fin del mondo questo a me è il nome dell'azienda mi piace da morire perché siamo in Patagonia quindi proprio no sai e secondo me rispecchia un po' quello che fai tu qua e il Malbec quest'anno all'expo che si fa a Bordeaux ogni due anni c'è questa fiera dove vengono premiati insomma i vini te la faccio molto semplice il Malbec è stato premiato come miglior vino al mondo ora questo è un vitigno che si faceva a Bordeaux proprio per fare il taglio bordolese hanno iniziato a farlo in Argentina quindi proprio tra le Ande sembra che lì c'è la maggior escursione termica al mondo ovviamente come per gli animali la terra è importante anche per l'uva e lì questo vitigno dà proprio il meglio di sé è giovane è un 2019 però in realtà può stare anche 10 anni e diventa ancora più piacevole senti che c'è una bella acidità ancora questo significa che puoi invecchiare però quando poi lo associamo la tua carne comunque molto saporita e ha una bella complessità questo vino secondo me riesce a pulirti la bocca e dargli la piacevolezza quindi un bel bicchiere di vino si vuole assolutamente sì quindi assaggiamo questo e poi vediamo come ci sta dovete fare un boccone di carne prima vado io posso dire secondo me ci sta maledettamente bene cioè si sposa sarà che c'è un tannino poco aggressivo questo è un vino buono buono è un vino bello bello corposo è potente è proprio un vino potente però ha questo tannino molto delicato e poi a seconda dell'invecchiamento adesso qua sentiamo della frutta rossa molto fresca però con gli anni diventa anche frutta sotto spirito quindi un po più particolare anche con la carne cambia proprio la bocca si sporca proprio di vino e veramente e ti richiama di mangiare no? infatti mi richiama di mangiare? io richiamo bicchiere da buon veneto beati voi ragazzi che seguite francesca su versami ancora perché vi date le chicchette come sta fine del mondo ma vabbè cioè io non so se è più fine del mondo la carne tua placida o il vino che ci ha portato francesca è un incontro sai che il mondo è tondo quindi ci siamo trovati alla fine del mondo mentre francesca ci prepara il secondo vino io volevo fare una nota tecnica su questa carne siamo di fronte a un angus ragazzi di serie A francesca vi ha fatto vedere come nasce come cresce in che modo viene allevato allora è una carne sontuosa elegante è succulentissima è molto molto succosa in cottura non perde praticamente peso e è molto convincente nel senso che è una carne marezzata ma che non appesantisce e davvero ve ne mangereste una chilata intera non smettereste mai di mangiarla questa è la dimostrazione che è un allevamento etico bestie di serie A allevate in maniera molto rigorosa molto seria e molto etica danno diciamo alla fine cosa? danno un risultato strepidoso di una carne nobile succulenta tenera saporita una carne che sa di carne e che non è ruffiana come tante carni dell'est europa o del nord europa che abbiamo imparato a conoscere in questi anni bene io col secondo vino ho versato un primitivo quindi siamo spostati totalmente andiamo in Puglia a Manduria terra di primitivo e qui abbiamo un'altra espressione la cosa che che mi ha portato a unire questi due vini è comunque la potenza di questi vini hanno tutte due 14 gradi pure per farvi vedere questa cosa no? come si sentono in maniera diversa qui uno dice oddio questo è un vino che ha una gradazione molto alta perché? perché il primitivo comunque fa parte di appassimento in pianta quindi sentiamo di più c'è una parte dolce no? prima tu mi hai detto sento una nota dolce però siamo portati a pensare che comunque qua c'è più alcol invece la gradazione alcoliera è la stessa identica questa è la bellezza cambia ovviamente la terra passiamo dalla Patagonia alla Puglia alla fine del mondo alla fine dell'Italia bravissimo e qui c'è comunque una bella acidità se provi a riassaggiarlo la senti comunque una parte fresca a me mi verrebbe dire però è proprio più caldo questo più avvolgente no? più avvolgente qua senti la Puglia qua la senti tutta il sole quasi veramente la Puglia no non abbiamo la stessa escursione termica ovviamente stiamo parlando di due territori completamente diversi però proviamo tu non hai gli passo ti lo prendo io tieni vai gli voglio passare a lui un cazzo di carne vai e proviamo che cosa succede con un vino completamente diverso gradazione alcolica stessa personalmente preferivo il primo secondo me questa sovrasta un po' troppo il sapore della carne quell'altro anche secondo me però vedi no? sono due vini molto buoni però per il tuo stile comunque questa carne è bella saporita ma molto elegante assolutamente ci sta meglio il Malbec quindi io direi di andiamo alla fine del mondo Francesca direi ripassiamo due romani sono arrivati a mozzecare per chiacchierare con un vento e alla fine hanno eletto come abbinamento diciamo migliore un vino argentino abbiamo fatto il giro del mondo ma vogliamo brindare anche una cosa oggi è il tuo anniversario di qualcosa ah sì certo oggi sono sei anni che sono andato in colorado e ho fatto l'esperienza di conoscere tempo grandi che è una donna eccezionale una professoressa sul benessere animale a livello mondiale riconosciuta da tutti e mi ha insegnato molto che ho cercato di portarlo nei miei allevamenti ci sei riuscito sono felice grazie ti deve mangiare bene non esagerare mai come si deve bere bene lo sai qual è il motto di mister bifi mangia sano vivi bene stai in salute e sii felice allora ragazzi oggi abbiamo di nuovo fatto un paragone molto carino quindi siamo andati sulla stessa gradazione alcolica abbiamo sentito che effettivamente non vuol dire niente la gradazione dietro a un vino perché l'espressione del territorio se il vino è fatto bene è sempre fondamentale quindi grazie seguiteci ciao